L'obiettivo principale di Perini Navi era trovare un architetto in un cantiere navale che potesse costruire un'imbarcazione prima di tutto accogliente e sicura, ma allo stesso tempo molto veloce e competitiva. Si è dunque raggiunto un particolare equilibrio tra un'accogliente nave da crociera e un'energica barca a vela. Selene, questo è il nome della nave, è dotata di una struttura e di un boma in fibra di carbonio, vele prodotte in Nuova Zelanda con un tessuto speciale, un'attrezzatura leggerissima in PBO, una cabina in alluminio molto luminosa e funzionale, una deriva zavorrata a bulbo a forma di siluro, una zavorra d'acqua per spostarsi da un bordo all'altro e un'ulteriore zavorra in fibra di carbonio per sterzare efficacemente. Tutto questo per quanto riguarda la velocità e la competitività. Dal punto di vista degli interni invece, l'imbarcazione è fornita di letti molto comodi, televisione, lettore DVD, lavatrice e asciugatrice. Inoltre, sono presenti un dissalatore e due generatori autonomi. Insomma, si può usufruire di tutti i comfort che ci si aspetta di trovare in una nave da crociera. Sulla P2, a differenza delle altre imbarcazioni della Perini Navi, non si trova nessun verricello vincolato. Grazie a un efficace utilizzo dell'idraulica, infatti, tutti gli argani sono stati situati sul ponte di coperta per poter essere maneggiati da un singolo marinaio e consentire un costante controllo della navigazione. La P2 consente due differenti modalità di navigazione. Con la modalità da crociera è sufficiente un equipaggio di 4 o 5 uomini per gestire le vele. Durante le regate, invece, viene utilizzata la modalità da gara, per la quale sono necessari 20-25 uomini per poter effettuare tutte le manovre in maniera rapida ed efficace e per correre la regata più velocemente delle altre imbarcazioni. In altre parole, c'è una grande differenza tra le due modalità, ma entrambe sono molto performanti e ben equipaggiate grazie al sistema velistico della Perini Navi.